Buongiorno, oggi siamo qui con la dottoressa e psicologa Elisa Borghi, che è la coordinatrice dell'Agres Onlus di Cislago, un'associazione che ha partecipato insieme ad altre al nostro calendario 2024, che ringraziamo per la partecipazione e oggi è qui per fare una piccola video intervista per spiegarci nel dettaglio che cosa fa l'associazione. Grazie Chiara in primis per l'invito a questa intervista e a poter partecipare a questo calendario 2024. Che cos'è Agres? Agres è un'associazione di genitori che è stata fondata nel lontano 1982. Quindi oltre 40 anni. Esatto, abbiamo spento le 41 candeline e ci occupiamo di riabilitazione di persone, bambini, adulti con disabilità, disabilità che possono spaziare dal ritardo mentale all'autismo oppure anche alle sindrome come la sindrome di Down, sindrome più rare e abbiamo poi anche tutto un settore che riguarda invece il supporto psicologico e psicoterapeutico, sia per bambini che per coppie, che famiglie e per adulti. Quindi insomma è un'associazione molto molto varia. Preziosa direi anche sul territorio. Esatto. Sicuramente. E non solo per noi perché insomma se la nostra storia conta davvero 40 anni vuol dire che probabilmente qualcosa e forse più di qualcosa di buono Agres è riuscito a farla. Sì, guarda, devi pensare che noi siamo nati appunto con una decina di genitori che si era ritrovata e aveva appunto dei figli con delle fragilità, con delle disabilità e questi genitori avevano iniziato a sentir parlare dell'ipoterapia, di questa riabilitazione fatta con e per mezzo del cavallo. Quindi queste decine di genitori si sono riuniti, hanno costituito l'associazione Onlus, quindi non a scopo di lucro, hanno fondato uno statuto, abbiamo un presidente che attualmente è la dottoressa Paola Brasca e da lì abbiamo trovato una location per poter iniziare ad implementare l'ipoterapia. Quindi abbiamo iniziato ad accogliere i primissimi bambini, i primissimi figli, i primi consiglieri e man mano si è sparsa la voce, grazie a che siamo cresciuti notevolmente. Quanti siete adesso? Ad oggi siamo circa 170 soci, quindi non siamo proprio pochi. Anche perché per gestire tutta una struttura del genere, insomma anche una formazione così particolare, un progetto così importante, penso che ci voglia tutto il supporto possibile. Assolutamente, sì anche perché appunto noi eravamo nati per poter implementare l'ipoterapia ma mano a mano che le famiglie del territorio venivano a bussare un po' la nostra porta per chiederci aiuto per i loro figli, per i loro familiari, eccetera. Poi tutto lo staff e il team di Agres, che è composto da un medico, da psicologhe, da figure educative, terapiste degli interventi assistiti con gli animali, insomma abbiamo un bel team, siamo un bello staff. abbiamo via via appunto cercato di implementare dei progetti specifici sempre in un'ottica riabilitativa o educativa appunto a seconda di quelle che erano le domande delle famiglie. Per aiutare il più possibile, ecco. Sì, esatto, il senso è proprio questo. Noi abbiamo ovviamente delle aree di intervento, quindi c'è sicuramente un settore che riguarda tutto il mondo equestre, quindi la riabilitazione equestre, ovvero l'ipoterapia. Abbiamo poi nel tempo implementato un servizio di terapia occupazionale, scuderia, quindi ci sono tutta una serie di persone che... Lavorano? Sì, diciamo, lavorano, sono sempre progetti educativi, riabilitativi, ecco, però esatto, l'idea è quella di preparare il cavallo, di poterlo accudire, preparare eventualmente il cavallo per le terapie dei bambini che svolgono poi la riabilitazione equestre, questo viene magari svolto sempre da ragazzi con delle fragilità, con delle disabilità lievi, con un disagio sociale, ma che permette loro di sentirsi utili, no? Passano, c'è un'inversione di ruolo, no? Sono più ad essere accuditi, ma sono loro che possono fare qualcosa per reale. Contribuiscono. Abbiamo una squadra sportiva, ci tengo a precisare, il nostro progetto AgriSport che gareggia a livello nazionale nelle categorie di FISE e FISDIR, portiamo a casa un sacco di medagli, i nostri ragazzi sono eccezionali, non perché sono i nostri, ma perché sono proprio bravi e poi ecco al di là di tutto l'aspetto del mondo equestre, negli anni proprio per rispondere ai bisogni territoriali, ci tengo a sottolineare, noi accogliamo tutte le famiglie del territorio che arrivano nelle queste quattro province, quindi Varese, Milano, Bonsabrianze, Como, perché siamo collocati appunto qui alla massina di Cislav e quindi siamo in questo... Punto strategico. Punto strategico, esattamente. Abbiamo aperto tutta una serie di servizi psicologici legati soprattutto agli interventi per l'autismo, di cui oggi se ne parla, se ne sente fortunatamente parlare tanto in termini di necessità soprattutto di intervenire in maniera precoce e intensiva e il servizio di psicoterapia, quindi insomma la mission è proprio questa, ascoltare le famiglie del territorio, incontrarle, accoglierle e cercare di costruire insieme dei progetti individualizzati, specifici per quella persona in quel momento della sua vita, quindi questo è il nostro obiettivo riabilitativo. Progetto ambizioso direi, ma portato a termine ogni giorno credo. Sì, non siamo... Credo che non sarà facile sicuramente. Ma è una bella sfida, è una bella sfida e ripeto poi in quanto Ollus tutto quello che noi facciamo viene implementato nell'attività stessa, quindi noi, ci tengo a precisare questo, noi accogliamo le famiglie, le famiglie pagano ovviamente una quota relativamente agli interventi riabilitativi, ma queste quote sono calmierate, proprio perché poi c'è tutta un'attività di fundraising, di solidarietà sociale, volta a mantenere attive tutte queste attività che come potete pensare sono molto dispendiose, sia a livello proprio strutturale, sia a livello di personale, perché ovviamente è tutto un personale qualificato, certificato e anche lo staff cavalli, ecco la nostra scuderia, noi abbiamo di proprietà sei cavalli, potete immaginare insomma, è costoso, anche perché per svolgere l'ipoterapia i cavalli devono essere cavalli con determinate caratteristiche, quindi insomma... è una bella macchina, esatto, la definirei più una grande famiglia però, perché... Beh poi tutte le associazioni, insomma la maggior parte credo che siano nate da piccoli nuclei affiatati che hanno avuto un'esigenza e da lì poi hanno deciso di creare un'associazione per far fruire di questi servizi al più grande numero possibile di persone che avessero le stesse esigenze, quindi questo è sempre molto bello. Questa è la prova, infatti siamo partiti da un piccolo gruppetto di genitori, siamo arrivati attualmente a 170, poi ovviamente le famiglie vanno e vengono, perché è giusto che sia così, perché i progetti riabilitativi ovviamente possono riguardare anche solo un momento della vita di una persona, non necessariamente debbano riguardare l'intero ciclo di vita, però abbiamo sfiorato anche, questo per ora abbiamo sfiorato anche punte di 195 associati, questo in equivalente è anche, si rispecchia anche a livello terapeutico, a seconda del progetto riabilitativo, noi abbiamo appunto bambini che magari vengono a svolgere terapie una o due volte alla settimana, invece ci sono persone che possono svolgere addirittura quattro volte alla settimana, questo per dirvi di come davvero non esiste un protocollo, di come non esista un pacchetto standardizzato e preconfezionato, ma tutto viene sempre cucito come un abito su misura, nell'interesse del bambino, del ragazzo, dell'adulto che abbiamo lì. Beh questo è molto bello, in effetti quello che dicevamo è quello che magari manca un po' nella sanità pubblica, chiaramente voi entrate a supporto per sostituire questa parte. Guarda, hai detto bene, noi ci affianchiamo in maniera un po' complementare a quello che è il Servizio Sanitario Nazionale, erogando questi tipi di interventi che pur essendo riconosciuto appunto come la riabilitazione, questa è assolutamente riconosciuta come una pratica di intervento molto valida ed efficace in determinati tipi di quadri clinici, in determinate situazioni, però ovviamente una neuropsichiatria infantile non porterà mai un cavallo in un reparto per ovvi motivi. Ovviamente. Quindi questo per dire che tutti i nostri servizi sono servizi destinati comunque al territorio, quindi questo è importante sottolinearlo. Perfetto. Allora, invito tutti a seguirvi sulle vostre pagine social, Facebook, Instagram, anche per rimanere aggiornati magari sugli eventi che fate, sulle raccolte fondi che possono servire per aiutarvi. Certo. Invitiamo anche qualcuno se voleste aggiungersi come socio, come partecipante per aiutare in questo bellissimo progetto e ti ringraziamo insomma a nome di credo tutta la comunità per il servizio che fate tutti i giorni. Ringrazio io voi per l'ospitalità e per la preziosa collaborazione. Grazie mille. Grazie.